Veronica? Sì! Molto bene! Buongiorno! 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 Questa parte, sì! Qui abbiamo qui! Sì! Con tutti! All'altra! All'altra! Grazie! 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 Tutti! Giulia! Tutti! All'altra! Ultimo! Two hours in the water! Yeah! Two kilometers! One painting! Yes! Questo è il general manager di 150? Ah! Yes! Devevo dare? Eh vediamo! Adesso dopo? Adesso dopo? Adesso dopo! Ok! Benissimo! Bravo! Grazie!